Porto Venere, il Porto Venere, aria di sosta, come si chiama, non lo sappiamo, ma la troveremo, questo che la troveremo? Perfetto, la troveremo. Roti d'acqua, in maniera che così siamo più leggeri. E che poche sono? La mia geografia, che avanza, si, la troveremo. Porto Venere, il Porto Venere. No, lo so, in mezzo ai porti dei bambini. Secondo me, dove? Da Toscana? Sì. Parmi di Carrare, da Toscana. Ok, veniamo a passare a Carrare. Mi rendete conto? Un alpinista che va al mare. Non ci vedo niente di strano. No. Lo sento? Lei, questa qui, che sta cercando l'aria di sosta, non ci vedo niente di strano. Per portare un alpinista al mare. Va. Va da un po'. Non sei giudicato? Non sei così? Non sei domilanzato da dietro. No. E che fazzino da, eh? La paiasca. Ma, ma. Ok, deviamo sempre con il mio compiloto qua lì dietro, Alvin. Con vino qua sotto che se la dorme. Laila che fa la social non social. Che è qua. E adesso andiamo per la Parma Mare, sempre più vicinì. Siamo ufficialmente arrivati in zona mare. Noterete la tristezza che ho nel cuore. E l'euforia mia. E l'euforia sua. Che tutto è contento di essere qui. Guarda. E di qua c'abbiamo il mare. Pochi centimetri, c'è tanta acqua, tutta piatta, piatto. Che bello. Tutto piatto. Di qua purtroppo c'è il mare, ma per fortuna siamo in Liguria e di qui c'è la montagna. Ecco perché accetto di portarla al mare. Oh, ci sono le bancarelle. Ci sono pure le bancarelle. E ora mi toccherà andare anche per bancarelle. Guarda i salvaggi. Oh, c'era una nave della costa. No, cos'era? L'MSC. L'MSC. Ah. Vabbè. Ah, signori, signori. Adesso andiamo a fare i biglietti per il viaggio di nozze. Non ho detto niente, ha fatto tutto lei. Sempre. Qui c'è un ospizio per gli anziani. No, gli diceva il tuo. Non ci pensi per la mamma. No, ma questo è sbagliato a strada. Non ho un cavo. Chi? Per tipo lì. No, sì, ma noi ci abbiamo ancora un chilometro esperto. No, adesso non lo vado. No, ma mi ha tranquillizzato molto aver visto quella corriera. No, ma la macchina fotografica è stata qua, sì? Sì, sì. Poi ti va di fare qualche fatto anche con la macchina. Puoi fare anche i filmini. Sì. Io mi sono dimenticato la GoPro. Non ricordo mai di prenderla. Vabbè, ma c'è la mia macchinina fotografica? Sì. Se ti vado usando. La carichiamo. È carica. Era. Non si scarica. Eh, non si scarica. Non andrei nell'acqua. Faremo con le lingue a piedi nell'acqua. Ma dentro è all'aria di camper, poi ti ci punto dentro io dentro l'acqua. Guarda, questa è una scarsa. Beh, io così estremista. Che bello sto giardino con tutte le rose. Anche perché mi sa che più di là di così non ci possiamo andare. Quindi è essere là per forza. Penso se dopo tutto sto trantrano... Guarda che bello, Mario. C'era un gumbino. Oh, bello. Ma l'imbusto, certi che va. Guarda. Sì, ho visto. Tra un chilometro la destinazione è sulle destre. Ma dove stai fando le stazioni sulla scena? Ma guarda tu che facciano le stazioni sulla spiaggia. C'è una piscina? Piscina al mare. Mare. Montagne. Mare. Montagne. Montagne. Mare, montagne. Mare, mare, mare. Mare, mare. Mare, mare. Grazie a tutti è ghiacciatissimo Alvin, qui Dumbe, qui La reputazione di un altimista rovinata al mare E' stato comprato quando? Quando tu eri in ferie in Sicilia In agosto Per festeggiare il camper Non l'abbiamo mai aperto Oggi siccome ci facciamo i tortellini in brodo Ho pensato bene di aprirlo Quindi via Un po' briachi oggi Imbariachi Piatti di tortellini fumanti Adesso vi salutiamo Perché ci mandiamo il piatto di tortellini in santa pace Alla faccia vostra Buon appetito a tutti Buon appetito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti